Sì, quasi. Pum, non per terra, ne? O vuoi prendere il bambino? No, ma senti. Con le buone si ottiene tutto, vedi? Ma... Ehi, te lì. Ehi, ehi. Sì, c'è il bambino, sì. No, ho detto io al bambino, sì. Sorpresa! O un po'? Addirittura cosa più. Grazie. Però io manco il bambino. Non lo capisci. No, è la garanzia, perché sono metri di murano soffiati. Ah, ah. C'è, 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 c'è. Sì. Tocchierolà. Qualcosa? Sì, e gli altri hanno toccato una segna. Sì, e l'altro hanno toccato una segna. No, no, no. Sì, sono andata a prenderci. Arrivo in garanzia. Oh, buono, buono. Non so, esce più carino. Eh, non lo so, è buono, delicato. Oh, buono. La buona sera è graffa. Graffa. Oh, bellissima. Ah, ah, c'è il bambino. Eh, perché è il bambino? Che è un bambino. È un cane? È un cane. In inglese. Glass. 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 No, è una graffa. Sì, sì, è di Murano, di Venezia. Murano. Sopplato. Sopplato. Oh, ok. Un cane? Un cane. Se capisce un cane? Lascia l'inglese. Parla. Dentro c'è la graffa. Sai cos'è la graffa, no? Sì, sì. Sì, la graffa. Sto facendo un video. Sulla graffa. Parla per l'argentina. Parla per l'argentina. Sto facendo un video. Sto facendo un video. Sto facendo un video. Mi sembra che è più facile. Puoi arrivare così o così. Vuoto, vuoto. Arriverà vuoto. Il cane deve arrivare in argentina. Un anno, noi abbiamo preso una bottiglia di graffa, l'abbiamo riempita di acqua. L'abbiamo beccata. La riempitano di acqua. L'abbiamo messo l'acqua dentro. E' regalata a lui. Lui era felice. Tre anni. Poi dopo quel successo sono arrivati i suoi amici, i suoi colleghi di lavoro. Ha fatto la cena. Ficca bella. E dopo la graffa. Ho una bottiglia di graffa buonissima. Tira fuori. Era buona. Era acqua. Non me la ricordo. Grazie. 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 Grazie mille. Vieni la graffa, mettete l'acqua e fate la felice. E fate la stessa cosa, sì. Poi glielo date a mamma, tanto mamma non beve graffa. E sì, e dopo... Diciamo l'anogua. Acqua di Venezia. Acqua di Venezia. Facciamo possedere Pianvigi. No, io non vedo. Guarda. E sì, cosa è Pianvigi. No, sì, no. Come si è da Pianvigi? Acqua di Venezia. Sarà difficile che arrivi all'Argentino, non so. Lo ti conviene da prima perché se no... Il problema che abbiamo è che dobbiamo prima fare il giro in Europa e dopo perché lui si va di... Di la variccia, di la variccia. Sì, ma con lo zaino. Ah, sono zaino? Sì. Bele, bele.